Ciao! Devi venire alla festa di The Lady, devi venire assolutamente, scrivi a posta e-mail e riceverai il tuo invito personalizzato, The Lady, 10 milioni di visualizzazioni, tanti amici, tante persone che hanno amato questa serie. Io ci sarò, ci sarà anche tutto il cast e, come dire, una serata unica e speciale. Tanti saluti a tutti gli amici di Spy Pro. Ciao! Ciao!